Grazie Ma più che blocco sociale qua ci troviamo di fronte a un grande movimento per l'alternativa non solo politica ma anche economica, sociale e culturale è la lotta per i beni comuni, il sapere, la conoscenza, la cultura, l'acqua beni che non appartengono a nessuno se non alle moltitudini io vedo una grande voglia di unità per costruire l'alternativa questa è la maturità politica in un momento storico in cui c'è anche la crisi forte dei partiti a Napoli stiamo sperimentando la stagione che porta queste istanze nei governi a Napoli nel governo di una comunità si governa insieme con questi movimenti, con i cittadini per costruire un'alternativa che si possa diffondere in tutto il paese